carissimi fratelli e sorelle gioia pace in abbondanza a tutti voi la grazia del signore fratelli ce lo ricordo oggi a san paolo nel brano della seconda letta suo discepolo timoteo e lui invita il suo discepolo a soffrire insieme a lui per il vangelo e amarmarsi di fede ravvivare la grazia di dio che operava in lui bene l'apostolo paolo dice al suo discepolo ipotio innanzitutto che quella grazia di dio ci è stata data dall'eternità ricorda questo fratello e sorella dio ti ama da sempre dall'eternità dall'eternità se oggetto della sua misericordia del suo amore della sua volontà che tu si erede con lui della sua gloria eterna e parlando del dono della grazia l'apostolo dice che lui ci ha salvati e ci ha chiamati con una vocazione santa non già in base alle nostre opere ma secondo il suo progetto e la sua grazia perché tu sei credente oggi perché dio ti ha scelto perché ti ha pensato ti ha voluto ti ha chiamato a entrare nello spirito del suo per vivere in comunione perfetta con lui per l'eternità quindi tu quello che tu hai e dono della benevolenza di diversi di te noi però umanamente sentiamo le avversità le sofferenze e i fallimenti dei peccati queste cose premeggiano in noi e oscurano tante volte la manifestazione di questa grande benevolenza divina che ci accompagna dall'eternità ripetiamo queste parole che dobbiamo fissare bene nel nostro cuore egli ci ha salvati ci ha chiamati con una vocazione santa non già in base alle nostre opere ma secondo il suo progetto e la sua grazia questa grazia ci è stata data in cristo gesù fin dall'eternità ma è stata rivelata con la manifestazione del salvatore nostro gesù cristo il perdone di dio fratelli verso di te e dall'eternità noi non vediamo quest'opera divina dio ce l'ha rivelato in gesù cristo che ha portato a noi la pace con dio è stato lui dio a riconciliare a sé il mondo in cristo non imputando agli uomini le loro colpe e affidando a noi la parola della riconciliazione vi supplichiamo in nome di cristo lasciatevi riconciliare con dio ecco l'opera di dio fratelli dall'eternità e dura eternamente se è eterno nell'origine è eterno anche nell'effetto guardate quale grande mistero vive in ogni creatura umana quale tesoro di gloria racchiude la sua grazia tra i santi e quale sia l'ampiezza l'altezza e la profondità dell'amore di dio verso di noi fratelli questa è l'opera di evangelizzazione che dio ci chiede manifestare questa grazia a tutti gli uomini perché accolgano attraverso gesù cristo la grazia di dio nella loro vita oggi la chiesa ricorda un grandissimo missionario non si hanno tantissime notizie come sempre succede san bonifacio nativo dell'inghilterra nome primordiale wilfrid e lui vuole dedicarsi totalmente a dio da giovane e aspirare al sacerdotio benché il suo padre fosse contrario ma rifugiva le cariche e gli onori cose che invece di vedere una data in abbondanza per la sua grande sapienza intelligenza preparazione e aveva dentro di sé questo spirito missionario tanto che il pape da allora lo invitò ad evangelizzare la germania ed è il grande apostolo della germania e lui come poter diffondere la fede attraverso i piccoli genacoli piccoli gruppi che vivendo insieme facevano da fermento da lievito in mezzo al popolo per questo è visto un po come uno dei principali evangelizzatori nella storia della chiesa oltre al fatto che il signore aveva dotato di grandi doni carismatici e a tarda età mentre si trovava in viaggio insieme ad altri sacerdoti fu raggiunta da un gruppo di masni ieri pagani che lo uccisero e lui prima di soccombre viva tutti gli altri a dare la loro vita per amore di gesù cristo la germania sempre stata una roccaforte della fede cristiana anche se le tentazioni l'hanno bersagliato in tanti modi soprattutto anche ai nostri giorni questo paese bersagliato da tante tendenze ed erodosse poco diciamo ortodosse perché dove c'è ricchezza dove c'è un'onda di libertà meglio di libertinaggio che la vera libertà dice gesù e quando noi crediamo la sua parola allora parola di dio ci libri dall'oscurità dagli inganni come dice giù nel vangelo se qualcuno ascolta se ascoltate queste mie parole sarete davvero mie discepoli conoscerete la verità e la verità farà liberi perché la schiavitù dell'uomo viene dall'inganno di satana che porta l'uomo a perseguire realtà inesistenti o in realtà erronea caduca peccaminose Gesù Cristo è la nostra libertà e tra le verità che il signore Gesù fratelli ci ha annunciato con molta franchezza è quella della risurrezione dei morti su cui anche noi dovremmo mettere molto più attenzione nella nostra vita cristiana perché perché noi siamo dominati dal senso del morire non dal senso del vivere mentre dio ci ha creati per l'eternità per la vita eterna per l'immortalità per la gloria senza fine un giorno quindi si avvicinano a gesù persone che non credevano nella risurrezione dei morti e presentano a gesù questo fatto un uomo era morto senza aver figlio ora per la legge del levirato il fratello fu costretto a sposare la moglie per dare figli al fratello sono stato in africa una quindicina d'anni fa e lì un seminarista che ormai era quasi vicino al sacerdosio mi disse che il suo primo fratello era morto e quindi aspettava al secondo prendersi cura dei figli suoi ma questo secondo fratello era inete incapace e lui era il terzo quindi bisognava che lui si dedicasse a quella propria famiglia e quindi avrebbe dovuto prendersi cura della moglie e dei figli del fratello e non sapeva che cosa scegliere se perseverarne la sua vocazione o se obbedire alla legge tribale che l'obbligava a uscire fuori dal sacerdosio per dedicarsi alla famiglia bene tra gli ebrei anticamente c'era questa legge del levirato quando un uomo moriva senza aver fini il fratello se ne aveva doveva sposarla vedo ai fini erano attribuiti al fratello morto quindi dicono a gesù ora sette fratelli sposarono la stessa vedova senza mai che nessuno di loro avesse figli allora la resurrezione dei morti di chi sarà moglie questa donna e dal momento che tutte e sette l'avevano avuto come moglie sentite la parola di gesù alla resurrezione rispose loro di gesù non è forse per questo che siete in errore perché non conoscete le scritture né la potenza di dio quando risorgeranno dei morti infatti non prenderanno né moglie né marito vedete come giro annuncia uno stato diverso da quelle che noi abbiamo adesso perché questo stato in cui ci troviamo lo stato toccato dal peccato ma di su tornerà un giorno per ripristinare quelle del peccato ha guastato quindi non è forse per questo che siete in errore perché non conoscete le scritture né la potenza di dio quando risorgeranno dei morti infatti non prenderanno né moglie né marito ma saranno come angeli nei cieli riguarda il fatto che i morti di gesù risorgono non avete letto nel libro di mosè nel racconto e troveto come dio gli parlò dicendo io sono il dio di abramo di isacco e dio dice l'oppe non è dio dei morti ma dei viventi o siete in grave errore ora fratelli queste parole di gesù ci devono portare innanzitutto ad accettare quell'affermazione assoluta il nostro dio dio di vivendo dei morti in quanto tutti vivono per lui tutti vivono per lui lui il dio di vivi non dei morti e noi come da non dobbiamo mai avere rapporti con la morte né con i morti ma col dio vivente con coloro che vivono in dio perché i nostri cari estinti vivono in dio così anche noi un giorno vivremo in compagnia dei santi nella gloria eterna e la seconda verità è questo stato di morte transitorio che siamo chiamati tutti anche fisicamente a risorge non ritornerà questo corpo ad essere come era ma verrà glorificato e spiritualizzato come quello di gesù giorno di pasca quando si presenta gli apostoli riunite nel cenecolo con quella della madonna che in cielo in anima e corpo signore gesù grande è la rivelazione che ci ha portato tu vuoi rinnovare tutta l'umanità con la potenza della fede che regnò nel cuore di san bonifacio con per mezzo di lui hai portato alla fede tante tribute pagane che per secoli ti hanno seguito e tante ti seguono ancora signore gesù dona a tutti in questa grazia di trovare la nostra libertà non nell'insubordinazione ma nella fedeltà alla tua parola fa che ci sottomettiamo ad ogni parola uscita della tua bocca con san pietro ti vogliamo dire tu solo hai parole di vita eterna a te signore sia la roda e la gloria per tutti i secoli dei secoli amen vergine santissima per la fede nella parola di gesù hai concepito e partorito il figlio di dio oggi fa che anche noi entriamo nel tuo cuore e conduce anche noi nell'obbedienza a gesù ad acquistare quella gloria che dio padre ha preparato per noi fin dall'eternità a gesù gloria per tutti i secoli dei secoli amen e la gloria di gesù fratelli risplenda su di voi vivete come figli della risurrezione come figli della luce non come figli ma figli della morte amen